Everybody get up! Non so dirvi quanto sia bello avervi di nuovo tutti sotto lo stesso petto. Natale a New York sarà stupendo. Ciao, piacere. Brian McDonald. Harper Stewart. Ciao. Brian McDonald. Sciò nel Vermont. Smettila, Harper. Adoro le donne color cioccolato. È maschio o femminile? Vogliamo solo che sia una sorpresa. Vabbè, Harper è bravo in questo. Allora, dove sta il vischio? Sarà lunghissimo questo weekend. Una volta eri il mio migliore amico. Tu sei il mio amico. Mi manchi. Se volete andare a scaldarvi un po'. Buonanotte. È Natale! E io sono pronto a dare e pronto a ricevervi. Ad un certo punto dovremmo dirglielo. Da suo tempo. Aspetta, tu lo sapevi. Giordano, lei è speciale. Mi sorprende che non sia stata con nessuno di voi. E chi te lo dice? È una provocazione. È una provocazione. Due foto. I' contains você noots di Julia transferred by Allah. Toccao amici,Cause is not forever. 've chosen us sunni precedente for you. Il video è su YouTube. Oh mamma, tua moglie è in jeres. Amore, mi dai un attimo il tuo cellulare? Il mio non prende più. Grazie a tutti.